Insegnamenti sulla guarigione Capitolo 1 L'energia della presenza mentale L'energia della presenza mentale è il balsamo che riconosce e guarisce il bambino e noi. Ma come coltivarla? La psicologia buddista divide la coscienza in due parti. La coscienza mentale e la coscienza deposito. La coscienza mentale e la consapevolezza attiva. La psicologia occidentale la definisce mente conscia. Per coltivare l'energia della presenza mentale cerchiamo di impegnare la nostra consapevolezza attiva in tutte le nostre attività. Cerchiamo di essere veramente presenti qualsiasi cosa facciamo. Vogliamo essere mentalmente presenti quando beviamo il tè o guidiamo per la città. Quando camminiamo vogliamo essere consapevoli che stiamo camminando. Quando respiriamo vogliamo essere consapevoli che stiamo respirando. Invece la coscienza deposito, chiamata anche coscienza radice, è la base della nostra coscienza. Nella psicologia occidentale viene chiamata mente inconscia. In essa vi sono depositate tutte le nostre esperienze passate. La coscienza deposito è capace di apprendere ed elaborare informazioni e ci viene in soccorso quando, come spesso accade, la mente non accompagna il corpo. Qualche volta svolgiamo le nostre attività quotidiane senza che la coscienza mentale sia affatto coinvolta. Facciamo molte cose soltanto per mezzo della nostra coscienza deposito, mentre la coscienza mentale pensa a tutt'altro. Ad esempio, mentre guidiamo per la città, la coscienza mentale potrebbe non pensare affatto alla guida, eppure raggiungiamo lo stesso la nostra destinazione senza perderci o avere incidenti. Questo è uno dei casi in cui la coscienza deposito opera per proprio conto, autonomamente. La coscienza è simile a una casa di cui la cantina costituisce la coscienza deposito, mentre il soggiorno è la coscienza mentale. Le formazioni mentali come rabbia, dispiacere o gioia giociono nella coscienza deposito sotto forma di semi, bija. In noi vi sono semi di rabbia, disperazione, discriminazione, paura, presenza mentale, compassione e così via. La coscienza deposito è costituita dalla totalità dei semi ed è anche il terreno che li preserva e li mantiene. I semi riposano sino a quando non sentiamo, vediamo, leggiamo o pensiamo a qualcosa che li solleciti, provocando in noi rabbia, gioia o dispiacere. Allora un seme affiora e si manifesta a livello della coscienza mentale in soggiorno. Da questo momento non lo chiameremo più seme, ma formazione mentale. Se qualcuno dice o fa qualcosa capace di turbarci, sollecita il seme della rabbia. Allora il seme della rabbia emerge e si manifesta come formazione mentale, cita Samskara, della rabbia nella coscienza mentale. La parola formazione è un termine buddista e indica ciò che è originato da molteplici condizioni concomitanti. Un pennarello evidenziatore è una formazione. La mano, un fiore, un tavolo, una cosa, sono tutte formazioni. Una casa è una formazione fisica. La mia mano è una formazione fisiologica. La rabbia è una formazione mentale. La psicologia buddista parla di circa 51 varietà di semi che si possono manifestare in 51 formazioni mentali. La rabbia è soltanto una di queste e viene chiamata seme della coscienza deposito e formazione mentale quando si trova nella coscienza mentale. Ogni volta che un seme, per esempio quello della rabbia, sale in soggiorno e si manifesta come formazione mentale, la prima cosa che possiamo fare è sollecitare il seme della presenza mentale e invitare anche lui a salire. Ora, in soggiorno si trovano due formazioni mentali. Così si realizza la consapevolezza della rabbia. La consapevolezza è sempre consapevolezza di qualcosa. Quando respiriamo consapevolmente, sperimentiamo la consapevolezza del respiro. Quando camminiamo consapevolmente, sperimentiamo la consapevolezza di ogni passo. Quando mangiamo con consapevolezza, sperimentiamo la consapevolezza del mangiare. In questo caso, la consapevolezza è consapevolezza della rabbia. La consapevolezza la riconosce e la abbraccia. La nostra pratica di base sulla visione profonda della non-dualità fa riferimento alla qualità di osservazione che si sviluppa nella meditazione definita Vipassana, che in sanscrito significa appunto visione profonda. In questa meditazione, tramite la concentrazione sul passo o sul respiro, si arriva a vedere la vera natura delle cose. Impermanente e priva di un sé separato. È anche la causa delle sofferenze personali. La rabbia non è un nemico. Sia la rabbia sia la consapevolezza sono parti di noi. La consapevolezza non è lì per reprimere o combattere la rabbia, ma per riconoscerla e prendersene cura. È come un fratello maggiore che aiuta il minore. Allora l'energia della rabbia viene riconosciuta e abbracciata teneramente dall'energia della presenza mentale. Ogni volta che abbiamo bisogno dell'energia della presenza mentale, sollecitiamo semplicemente quel seme con il respiro, il passo e il sorriso consapevoli. Così si rende a noi disponibile l'energia per compiere il lavoro di riconoscimento e accoglienza e più tardi di osservazione profonda e trasformazione. Qualsiasi cosa facciamo, che sia cucinare, spazzare, lavare o camminare, se rimaniamo consapevoli del nostro respiro, continuiamo a generare l'energia della consapevolezza e il seme della presenza mentale in noi si rinforzerà. Nel seme della presenza mentale c'è il seme della concentrazione. Con queste due energie possiamo liberarci dalle afflizioni. Una buona circolazione nella mente Il nostro organismo lavora di continuo per espellere le tossine è mantenersi sano e quando la circolazione sanguigna funziona bene, i reni e il fegato possono svolgere efficacemente la loro funzione. Se invece la circolazione non va, le tossine si accumulano e in questi casi i massaggi o altre tecniche possono aiutare il sangue a circolare meglio. Anche la nostra coscienza potrebbe soffrire di una cattiva circolazione. I blocchi di sofferenza, dolore, dispiacere o disperazione, forse presenti in noi, sono come tossine nella nostra coscienza. Le chiamiamo formazioni interne, nodi interni. Abbracciare il dolore e il dispiacere con l'energia della presenza mentale equivale a fare un massaggio alla coscienza. Quando il sangue non circola bene, gli organi non funzionano adeguatamente e ci ammaliamo. Quando nella psiche non c'è buona circolazione, la mente si ammala. La presenza mentale stimola e accelera la circolazione, sciogliendo i nodi di dolore. Occupare il soggiorno I nodi di dolore, dispiacere, rabbia e disperazione tendono sempre a emergere nella coscienza mentale. Vogliono stare in soggiorno perché sono diventati grandi e hanno bisogno di attenzione. Vogliono affiorare, ma noi non vogliamo questi ospiti inattesi, perché ci fanno paura. E allora cerchiamo di bloccare loro la strada. Preferiamo che restino in cantina. Non li vogliamo incontrare faccia a faccia. Così prendiamo l'abitudine di riempire il soggiorno di altri ospiti. Ogni volta che abbiamo 10 o 15 minuti di tempo libero, facciamo qualsiasi cosa per tenere il soggiorno occupato. Chiamiamo un amico, sfogliamo un libro, accendiamo la televisione, oppure usciamo a fare un giro con l'auto. Speriamo che tenendo occupato il soggiorno, queste formazioni mentali spiacevoli non affioreranno. Ma le formazioni mentali hanno bisogno di circolare. Se non le lasciamo emergere, provocano una cattiva circolazione nella psiche, nella mente e nel corpo, causando disagio mentale e depressione. Se con un'aspirina il mal di testa non passa, potrebbe essere sintomo di un disagio psicologico. Forse soffriamo di allergie e crediamo che si tratti di un problema fisico. Ma qualche volta le allergie possono anche essere sintomi di problemi psicologici. Spesso i medici prescrivono farmaci che tuttavia, a volte, non fanno altro che riprimere le formazioni interne e aggravare la malattia. Smantellare le barriere Quando impariamo a non temere più i nodi della sofferenza, gradualmente possiamo lasciarli circolare nel nostro soggiorno, abbracciarli e scioglierli con l'energia della presenza mentale. Una volta smantellate le barriere tra cantina e soggiorno, i blocchi di dolore emergono e questo probabilmente ci farà soffrire un po'. Il nostro bambino interiore potrebbe portare con sé troppe scorte di paura e rabbia dopo tutto quel tempo trascorso in cantina. Non c'è modo di evitarlo. Per questo la pratica della presenza mentale è così importante. Senza il suo aiuto, l'emersione di quei semi potrebbe essere molto spiacevole. Se invece sappiamo come generare la sua energia, è molto salutare invitare ogni giorno i nodi della sofferenza ad affiorare per poi abbracciarli. La presenza mentale è una grande fonte di energia e può riconoscere, abbracciare e prendersi cura delle energie negative. Dapprima, probabilmente, quei semi avranno difficoltà ad emergere. Magari c'è troppa paura e sfiducia. Forse sarà necessario blandirli un po'. Così quella che era una forte emozione tornerà a depositarsi di nuovo giù in cantina e ridiventerà un seme, ma questa volta più debole. Ogni volta che fai un bagno di consapevolezza alle tue formazioni interne, i blocchi di dolore diventeranno più leggeri. Allora fai ogni giorno un bagno di consapevolezza alla tua rabbia, alla tua disperazione, alla tua paura. Dopo qualche giorno o settimana in cui aiuti queste emozioni ad affiorare e a ritornare giù quotidianamente, avrai creato una buona circolazione nella tua psiche. La funzione della presenza mentale La prima funzione della presenza mentale è riconoscere, non combattere. Possiamo fermarci in qualsiasi momento e diventare consapevoli del bambino o della bambina ferita in noi. Quando le riconosciamo per la prima volta, tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è dire ciao, nient'altro. Forse la bambina o il bambino è triste. Se lo notiamo, possiamo semplicemente ispirare e sussurrare a noi stessi. Una volta che abbiamo riconosciuto il bambino interiore, la seconda funzione della presenza mentale è abbracciarlo. È una pratica molto piacevole. Invece di combattere le nostre emozioni, ce ne prendiamo cura. La presenza mentale porta con sé un alleato, la concentrazione. Troviamo sollievo sin dai primi minuti in cui riconosciamo e abbracciamo teneramente il nostro bambino o la nostra bambina interiore. Le emozioni difficili ci sono ancora, ma non soffriamo più così tanto. Una volta riconosciuto e abbracciato il bambino interiore, la terza funzione della presenza mentale è placare e alleviare le emozioni dolorose, semplicemente accogliendo con gentilezza la bambina o il bambino in noi. Mitighiamo le emozioni difficili da sostenere e cominciamo a provare sollievo. E una volta che riusciamo ad abbracciare le emozioni intense con consapevolezza e concentrazione, diventa più facile comprendere le radici di queste formazioni mentali e sapremo da dove proviene la nostra sofferenza. Quando vediamo la radice delle cose, la sofferenza diminuisce. Così la presenza mentale riconosce, abbraccia e libera. L'energia della presenza mentale contiene sia l'energia della concentrazione, sia l'energia della visione profonda. La concentrazione ci aiuta ad indirizzare l'attenzione su un solo oggetto. Con la concentrazione l'energia dell'osservazione diventa più potente ed è possibile la visione profonda. La visione profonda ha sempre il potere di liberarci. Se c'è consapevolezza e sappiamo come mantenerla viva, c'è anche concentrazione. Se sappiamo come mantenere viva la concentrazione, si manifesta anche la visione profonda. L'energia della presenza mentale ci permette di guardare in profondità e raggiungere la visione profonda di cui abbiamo bisogno. Allora la trasformazione è possibile. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video, sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo al prossimo video.